Cioè Dio si è fatto uomo, come in cielo così in terra. Amen. Amen. Mondo era, mondo è. Mondo rimane. E il mondo sarà. Il mondo sarà. Ma di chi ci possiamo fidare noi? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sono l'altra faccia della stessa medaglia. Sono d'accordo. Il principe, ma chi è vero? Sono d'accordo. Eh, il principe. Bisogna essere più umani, Roberto. Ma quante stelle ci sono nell'universo? Tante. E il nuovo ordine mondiale? E chi vibra? Vedrà. Ah... Oh. Sì. Un contesto. È l'universo lo stesso. Grazie a tutti